L'abuso sessuale è un peccato orribile, completamente in contraddizione con l'insegnamento di Cristo e della Chiesa e questa risponderà con l'applicazione delle misure più ferme a tutti coloro che hanno tradito la loro chiamata e abusato dei figli di Dio, applicando in modo irrevocabile il principio della tolleranza zero. Lo scrive Papa Francesco nel discorso che ha consegnato la Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori, ricevuta nel corso dell'Assemblea Plenaria. Dopo il saluto del Presidente della Commissione, istituita tre anni fa, il Cardenalo Malli, il Papa, nel suo discorso scritto, ha condiviso con i presenti il profondo dolore che sente nella sua anima per la situazione dei bambini abusati. Lo scandalo degli abusi sessuali è stata un'esperienza molto dolorosa per la Chiesa, ha ricordato, ma ora la chiamata è quella di abbracciare la missione del Vangelo per la protezione di tutti i minori e gli adulti vulnerabili. È incoraggiante sapere quante conferenze episcopali e conferenze dei superiori maggiori hanno cercato il vostro consiglio, ha concluso il Pontefice, adottando la vostra raccomandazione per una giornata di preghiera e di un dialogo con le vittime di abusi e con i rappresentanti delle organizzazioni delle vittime.